Quanta gioia questa sera riempie le navate della basilica e San Paolo non è piccola ma oggi sembra piccola quindi vuol dire che c'è molta gioia davvero contempliamo l'Evangelii Gaudium la gioia del Vangelo che diventa il ringraziamento per i tanti doni che attraverso la comunità di Sant'Egidio hanno reso luminosa beata la vita di tanti un popolo grande universale di umili e di poveri che loda il Signore perché ha gratuitamente e senza meriti ricevuto tanta acqua buona quella che toglie la sete anzi fa diventare i nostri cuori stessi una sorgente contempliamo e lo facciamo sempre insieme ai fratelli e alle sorelle che vivono nella pianezza dell'amore in quella casa dove la nostra vita è diretta e cercare quella casa e ricordarci che è quella la casa dove la nostra vita è diretta ci aiuta a vivere bene in questo mondo molto bene ricordiamo insieme a loro contempliamo insieme a loro il cento volte tanto promesso dal Signore lo vediamo nonostante i limiti la piccolezza il peccato della nostra povera storia Dio ha versato il tesoro prezioso e sempre stupefacente del suo amore ci sorprende sempre poi qualche volta siamo talmente vittimisti che non ci sorprendiamo di una cosa così bella no bella piena proprio tanto di tanta gioia di tanta luce non stanchiamoci di stupirci per quanto le vie del Signore come abbiamo ascoltato sono diventate anche le nostre vie i suoi pensieri tanto più grandi dei nostri sono diventati i nostri pensieri e quel piccolissimo seme gettato il 7 febbraio del 1968 non smette di dare tanti frutti la parola di Dio non è ritornata senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata dice il profeta e questo è il desiderio di Dio lo contempliamo oggi che gli uomini si amino e siano amati e non c'è nessuno che non ami e che soprattutto anche non sia amato qualche volta è questo che ci scioglie da tanta paura e c'è tanto amore ecco perché oggi lo diamo il Signore noi ignoriamo i limiti anzi sentiamo anche l'inquietudine per il tanto che manca da fare personalmente anche il tanto che avrei dovuto fare l'ansia di farlo meglio di raggiungere i tanti dei quali sentiamo la sofferenza spesso senza speranza nella complessa drammatica vicenda del mondo e siamo a San Paolo e sentiamo tutta la sua passione per le dolie di un parto terribile che vive il mondo ecco dove dobbiamo andare ma cantiamo con pienezza la grazia di questa casa fondata sulla roccia la gioia di Dio è molto umana vera qualche volta pensiamo la gioia del Signore vabbè no no è molto umana molto concreta anzi ci aiuta a capire l'inganno di quella tutta soggettiva o quella che non affronta la vita così com'è è una gioia che si confronta con un mondo che continua a frantumarsi a motivo delle guerre quindi non la gioia di chi scappa la gioia di chi affronta il male in un mondo dove vediamo tanta violenza il terrorismo diffuso le povertà che come la pioggia i fiumi e i venti di cui parla il vangelo si abbattono sulle nostre case sino a distruggerle e una cultura di violenza sembra conquistare sempre più sempre più spazio sembra essere pervasiva convincente alla ricerca di sicurezza sembra dare sicurezza e la maggioranza spaisata impotente si chiude ancora di più in se stessa e quell'affermazione dell'io senza un noi e senza dio che porta inesorabilmente alla rovina un io nutrito da tanti fornitori di benessere individuale e ce ne sono parecchi ma che non trova mai se stesso perché è solo uscendo da sé che capiamo chi siamo ed è uno dei motivi per cui ringraziare la comunità ci ha fatto uscire un po tutti dall'egocentrismo e ci ha fatto accorgere degli altri e per di più ci ha fatto anche amare gli altri e ci ha fatto vedere come amare gli altri in realtà ci fa star bene oltre che fa star bene per questo ringraziamo il suo iniziatore andrea riccardi che non ha mai smesso di costruire casa e case e di farci sentire a casa di credere possibile che la terra sia una casa comune e che quei fratelli tutti lo ha vissuto nella passione nella passione nell'intelligenza del dialogo nella sapienza di interrogarsi sulle correnti profonde della storia scandagliandole senza lo scettilicismo e il fatalismo così diffusi ma sempre cercando in essa i segni dei tempi e interpretandoli alla luce del vangelo e ringrazio credo a nome di tutti il presidente marco in pagliazzo e quanti collaborano con lui perché questa comunione così articolata e fisicamente universale sia sempre una famiglia con un tratto di attenta e delicata fraternità mai scontata sempre originale e creativa sacramento dell'amicizia nel quale contempliamo l'amore di dio e ringrazio anche i tanti che camminano con noi che aiutano il cammino della comunità in tanti modi di cui tutti voi qui presenti e anche i tanti che sentiamo vicini nel cuore la comunità è davvero una casa e vuole essere una casa una famiglia dove la conoscenza di cre di sé cresce nel pensarsi in relazione con dio e con il prossimo nell'interiorità e nel servizio vicendevole la comunità non ha perso tempo e non vuole perdere tempo a discutere sterilmente quanto tempo e quanta superficialità nelle sterili anche se appassionanti contrapposizioni qualche volta ci si appassiona non sa manco più perché o si esiste solo perché ci si contrappone auguri la comunità non si è esaurita in una entusiasmante stagione di sogni per poi addormentarsi nel grigio del cinismo e dell'indifferenza perché il mondo dell'io fa costruire sulla sabbia del soggettivismo che un grande inganno che fa credere di essere se stessi mettendosi al centro studiandosi continuamente ma senza soddisfazione per quello che ho detto prima e finendo poi presi nella logica della competizione del confronto pericolosamente ignorante facilmente aggressiva e violenta la comunità non si è ripiegata nella mediocrità e nel compromesso con il tiranno dell'individualismo sempre voluto essere una comunità pensarci insieme qualche volta non è facile qualche volta qualcuno ha dovuto proprio mettere molto ago e filo per continuare a pensarci insieme ma non c'è salvezza da soli ci si salva insieme il primo il nostro signore la radicalità dell'inizio è diventata la roccia di un amore fedele che non abbandona nelle difficoltà più forte delle delusioni delle inevitabili fragilità la radicalità è diventata passione la passione lontana da quelle tristi e malinconiche che ha animato la ricerca ostinata del bene esigente e umano possibile a tutti e per tutti oggi lo comprendiamo con ancora più chiarezza gaudium et spes gioia e speranza è proprio quello di cui ha bisogno il mondo avvolto nella tristezza e segnato dalla disillusione da tanta disillusione da quel veleno del pessimismo che si arrende alla paura che fa appassionare per le cose non per le persone che fa arrendere la gaudium et spes cominciava proprio così le gioie le speranze le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono sono le gioie le speranze le tristezze le angosce dei discepoli di cristo e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore queste parole possiamo porle all'inizio della vita della comunità figlia del concilio che definisce la chiesa segno e strumento dell'unità del genere umano e la comunità è sempre un piccolo gregge ma il suo cuore è grande e universale non è una casta di eletti ma una famiglia dove tutti sono chiamati amati da dio ecco che cosa ha voluto essere cosa umilmente ma fermamente vuole essere la comunità nella sconvolgente tempesta del mondo infine la comunità rappresenta una profezia nel mondo cioè la memoria degli inizi ci spinge a confermare con entusiasmo questa chiamata e la profezia vuol dire cominciare a vedere e a cercare e a realizzare oggi quello che sarà domani i profeti vissero in tempi difficili non parlano di luce nel pieno del giorno ma nella fatica della notte allora ogni piccolo e umile servizio al prossimo è profetico perché ritesse i frantumi delle società non si arrende non si fa tentare dice papa francesco dall'indietrismo cioè guardare sempre un po' indietro molto più facile di quello che si che si crede ma cerca di vivere la passione dell'innamorato la profezia è il gesto di amore che inizia oggi quello che sarà pieno domani e per questo che la comunità sente l'inquitudine di essere profezia nel mondo del mondo che verrà che chiede oggi di costruirlo di crederlo possibile di riconoscerlo presente in quella creazione che tanto soffre le tante grida i terribili lamenti delle vittime dei poveri feriscono il cuore sensibile di questa madre che è la comunità e diventano compassione concreta e personale per i piccoli e per i paesi interi e la scelta per un mondo più solidale più fraterno dove nessuno è straniero perché tutti prossimo è proprio vero come disse recentemente andrea utilizzando un verbo italiano un po desueto che è riamicarsi riamicarsi cioè fare amicizia riamicare gli animi dei nemici dei delusi degli indifferenti riamicare il nostro stesso animo partendo proprio dal creare in sé un animo amico amico di dio e per questo amico degli uomini e quindi bisogna togliere un po di nemicizia un po di barriere di diffidenza le nostre comunità rappresentano umilmente ma con tanta umanità questa scelta di riamicarsi con il mondo e di riamicare il mondo con gli altri intorno per questo permettetemi di ringraziare i fratelli dell'ucraina ma anche quelli purtroppo tanti che moltissime zone di conflitto armato rappresentano con il loro amore la profezia della pace cioè che non smettono di riamicarsi in un mondo dove c'è la guerra e da lì che potrà iniziare la pace inizia la pace ecco la speranza non finisce profeti dell'amore di dio iniziando oggi quello che ancora non c'è e che inizia nella nostra povera umanità riflesso dell'amore di dio grazie signore e grazie alla comunità che continua a farci vedere con fiducia e passione l'umanità perché il male non vince mandi il signore nuovi operai nella sua messa tutti scelgano la pace il signore dia pace e ogni comunità piccola o grande nei villaggi africani nelle grandi megalopoli possa essere la casa sulla roccia dell'amore che non finisce non delude per tanta umanità stanca e ferita per la quale il signore si muove a compassione chiama e manda i suoi discepoli affidando loro la vera forza quella che cambia il mondo e realizza oggi il desiderio di dio che anche il desiderio di tutti che quello dell'amore e così sia